Hai ricevuto errori riguardo al gioco Wararm 40.000 Space Marine 2, il problema del controller, quindi in questo caso puoi risolvere direttamente aggiornando i driver del tuo controller oppure disabilitare il controller, riabilitarlo oppure scollegarlo. Quindi in questo caso vado un attimo a collegare il mio controller, collego così il mio controller, vado direttamente su gestione dispositivi per vedere se funziona perfettamente, tasto destro su start, gestione dispositivi. Vai direttamente sulle periferiche che hai collegato al tuo computer o controlli direttamente su Human Interface qua, se per esempio qua c'è scritto controller, vai la stessa cosa che adesso ti mostrerò, quindi vai sul controller il tuo, tasto destro sopra, aggiornare i driver, cerchi i driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili. Metti il primo, vai avanti e installi così il driver per il tuo controller. Una volta fatto devi riavviare il computer. E facciamo chiudi. Se non dovesse funzionare puoi semplicemente disabilitare il dispositivo. Dice di riavviare il computer, quindi tu riavvia il tuo computer. Una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente su. Configura dispositivi di gioco USB, basta che scrivi controller e ti uscirà questo. Assicurati di inserire così il tuo controller, ovviamente anche se hai collegato il tuo controller, però qua sopra non c'è scritto che l'hai selezionato, quindi vai su proprietà. Avanzata è qua. Periferica, predefinita, inserisci la tua e fai ok. Se lo stato è ok vuol dire che funziona. Proprietà, per fare un test se funziona il controller, il controller funziona perfettamente. Facciamo ok. Se invece stai usando un controller della Playstation puoi semplicemente usare l'applicazione Playstation Accessories, questo qua del firmware. Tipo per esempio funziona soltanto con cavo e Bluetooth. Wireless non ti so dire se funziona. Io ovviamente uso un controller wireless, quindi con chiavetta. Quindi ti ho lasciato così la pagina in descrizione per scaricare così il driver per Windows, lo scarichi e lo installi e inizi così ad usarlo. Se non funziona, andiamo direttamente su dispositivi, impostazione dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo. Scendiamo fino a giù fino a trovare il nostro controller ed eccolo qua. Tre puntini, rimuovi. Rimozione del dispositivo. Scollego anche la chiavetta dal mio computer. Riconnetto. Xbox 360 per Windows. Chiudo un attimo la schedina. Impostazione dei dispositivi. Ed eccolo qua. E il controller funziona. Quindi, prova a usare questi metodi qua. Se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.